7.05 buongiorno a tutti giovedì 23 novembre buongiorno benvenuti su cristal radio benvenuti a good morning milano buona giornata a tutti buon inizio ci si sveglia ci si sveglia riflessivo riflessivo però non puoi riflettere troppo ci si addormenta che è ulteriormente riflessivo double reflexing comunque 7.06 già un minuto che siamo qui con voi non ne potrete già più ma noi siamo qua fino alle 9 oggi puntata ricca e parleremo come al solito un po delle notizie cosa sta succedendo a milano cosa non sta succedendo poi abbiamo l'appuntamento con il teatro con Tamara Malleo e poi oggi giornata in segna della cultura perché avremo Michela Pasi che ci parlerà di una mostra che inizierà domani in quel di Brescia ci spostiamo un po lungo l'A4 che sicuramente sarà trafficata diciamo ma non lo so chiediamo dopo agli amici di Luce Verde si parte subito la grande quest'oggi ho visto cosa l'ufficio programmazione mi ha messo in scaletta potrebbe essere un cristal history per gli artisti ma non lo è perché paradossalmente è uscita un mese fa è uscita praticamente meno di un mese fa e però insomma ci sono tutti è l'ultima vera canzone dei Beatles perché tutti e quattro sono dentro questa canzone c'è anche alla chitarra George Harrison perché avevano registrato prima che lui ci lassasse e quindi The Beatles Now and Then The Beatles Now and Then mai avrei pensato di nel mio nella mia breve carriera radiofonica di annunciare o disannunciare un brano originale nuovo dei Beatles mai avrei pensato di dire ecco a voi l'ultima canzone di The Beatles anche The Rolling Stones per altri motivi eppure anche loro sono appena usciti e spesso li annunciavano quello si quello si però in questo caso sembrava quasi impossibile invece ricordiamo che non è una canzone cioè Now and Then è stata suonata e cantata da John Lennon al piano negli anni 70 poi si è perso completamente la traccia di questo c'è una cassetta in realtà una cassetta con tre brani su da cui questa Free as a Bird anche che uscì nel 97 se non sbaglio ma questa era troppo registrata male diciamo per poter uscire ed essere pubblicata ci provarono nel 97 tant'è che George Harrison registrò e scrisse tutte le parti di chitarra di questa Now and Then ma non si riuscì poi a pubblicarla perché la qualità soprattutto della voce di John Lennon era troppo bassa rispetto al pianoforte che sovrastava la voce grazie all'intelligenza artificiale programmata e realizzata per il documentario Get Back sono riusciti a isolare bene la voce a isolare bene il pianoforte e quindi a quel punto ritornare in sala d'incisione Paul McCartney e Ringo Starr e creare questo gioiellino assurdo sì molto interessante c'è un bellissimo micro documentario su YouTube che spiega tutta questa da quanto è che non usciva una canzone inedita dei Beatles? dal 97 ok dal 97 cioè il 97, il 97, il 97, il 97, il 95 Free as a Bird è l'ultima io di solito non sono molto favorevole alle cose che non sto parlando nel caso dei Beatles muore l'artista, si va a scovare nei cassetti secondo me Michael Jackson mi riferivo proprio alla questione di Michael Jackson che sono usciti più album postumi che no vabbè bisogna capire una cosa adesso bisogna capire fino a che punto ci spingeremo nel senso che se le registrazioni sono originali perché no se uso l'intelligenza artificiale per appunto isolare, mettere un multitraccia per pulire la registrazione va bene mi fa paura l'idea che se troviamo un testo, un testo e basta da qualche parte scritto da un artista potremmo magari un giorno farglielo cantare senza che l'artista ci sia quello è molto probabile quello mi fa un po' più paura e poi c'è anche la questione che qua sostanzialmente due su quattro alla fine sono Vivi e Vegiti e hanno deciso hanno deciso mentre nel caso in cui muore l'artista prossimo i posteri vanno ad aprire i cassetti, tirare fuori i canzoni magari lui non voleva che uscissero perché sono rimasti lì apposta bisognerà capire se gli artisti di oggi possono prevenire questa cosa gli artisti di oggi non arriveranno ad arrivare alla fine della carriera, della loro vita figurati di quella ultraterrena ah dici che non arriveranno ad avere questi cassetti pieni di inediti che invece dovranno potremmo essere tranquillamente cioè cassetti pieni di cartaccia sarà quel punto no ma non per la qualità, per la velocità per la velocità con cui infatti non ci ricorderemo più neanche di loro esatto, proprio per il fatto di essere meteore in un mondo in un'epoca velocissima sto pensando a un... anche semplicemente non so, a Bob Dylan, no? che magari adesso, conscio di questa cosa ma faccio un testamento culturale per cui dice non provate a pubblicare niente da Bob Dylan considerando che è uno che fa chiudere i telefoni che non è andato a ricevere il Nobel ad esempio quando è entriato a vedere Bob Dylan devi mettere in un sacchettino il telefono Depeche Mode, my favorite stranger poi non dite che non vi coccogliamo infatti c'è, apriamo con i Beatles seguiamo con i Depeche Mode e andiamo avanti con l'analista no scatata anche io entro un attimo che mi fanno fuori anche a me adesso arriva la comunicazione congiunta Crystal Radio e Milano News dice non ci distocchiamo dalla dichiarazione tra l'altro no anzi a me piacciono anche l'ultimo di un'analista tra l'altro ieri Fiorello ha detto la stessa cosa siamo certo noi a dirlo però che Morgan fa Morgan e non vi dovete stupire se fa Morgan c'era un tweet che riassumeva tutto perché lui ci ascolta prima di andare in onda come prima, lui va in onda prima di noi allora non è lui c'è uno pagato da Fiorello che ci ascolta come Paul McCartney dice tutto quello che come Paul McCartney prima ho detto due su quattro sono vivi ah beh non si sa non si sa sapendo se ho visto un documentario su Panatta è uguale a Paul McCartney ci assomigliano di brutto è un po' più grosso no vabbè ma anche da giovane in realtà dicevo no ma adesso l'intervista è una Paul McCartney e che se fosse quello originale Adriano Panatta cioè se vedete Paul is dead vuol dire che in contemporanea lui era un campione di tennis e una star internazionale di musica gli anni erano qua no però credo che il Panatta esca fuori dopo il famoso Paul is dead quindi potrebbe essere che appunto si era stufato di suonare era morto a 27 anni se non sbaglio Paul McCartney e mi sembra una cosa del genere perché è la targa della macchina di Abbey Road il maggiolino frasteggiato su Abbey Road il fatto che lui fosse scalzo il fatto di essere mancino però poi ci sono delle foto in cui cioè c'è questa roba qua che lui è mancino ma ci sono delle foto in cui beve la tazza di caffè con la destra e allora basta non è lui ma scusa quante volte a me sarà capitato di fare una roba con la sinistra ma scusa non lo so anzi poi io credo che posso dire a un destro è più difficile che faccia per un destro è più difficile che si facciano cose con la sinistra invece per un mancino è più facile che si facciano cose con la destra perché alcune cose proprio nascono per i destri quindi per forza prendere di destra come dire molti mancini usano il mouse con la destra ad esempio come esempio comunque ci sono un sacco di teorie bellissime andate a vedere perché vabbè a parte la copertina di Sedge & Pepper sì sì ma poi molto bello se volete proprio fare il trick il 360 fare il salto mortale vi consiglio Almost True di Lucarelli dove in realtà lui dichiara apertamente che si inventa tutto ci hanno fatto una trasmissione Carlo Lucarelli sì sì hanno fatto una trasmissione alla Carlo Lucarelli dove appunto racconta possibili complotti possibili storie è tutto sulla musica apparentemente quindi è molto interessante ma dove è dichiaratamente tutto finto e lui si inventa ad esempio che Jim Morrison no che Elvis Presley è un agente della CIA che Jim Morrison poi diventa in realtà un altro cantante famosissimo adesso non mi viene in mente come si chiama francese tutto così e c'è forse anche quello di Paul McCartney dove si inventa delle cose assurde ed è divertente ci sono le interviste ad agente della CIA che ha scoperto una cosa in realtà magari che ne so Paolo Castolli del Corriere della Sera cose così che fanno finta di essere altri personaggi doppiati dall'inglese all'italiano bellissimo anche se lo cito sempre allora lo rifaccio e vi invito ad ascoltare gli mortacci di Elio di Elio è la storia tese che parla sostanzialmente immagina questo cioè questo futuro no questo futuro ma questo presente in cui ci sono distopico Jim Morrison Jimi Hendrix eccetera eccetera Elvis su un'isola deserta e di Cerra Stamanno fa questo e Lucertolone fa l'alto Lucertolone bellissimo si chiama così si chiama come si chiama la canzone di mortacci va bene adesso ma che la cerchiamo vediamo se invece andiamo con lei che invece ci racconta sempre delle grandi storie ci fa commuovere spesso volentieri di Adele e che artista Adele oh my god alle 7.23 minuti su Crystal Radio poi magari leggiamo anche i messaggi che arrivano che non sarebbe male Elodie fa rispenti 7.32 minuti ben ritornati su Crystal Radio ben ritornati a Good Morning Milano eccoci 331 7853 555 il nostro numero di Whatsapp grazie mille ai messaggi grazie ad Alberto che ci ha scritto poco fa dicendo che bello il risveglio con i Beatles buongiorno a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio buongiorno a te Alberto e grazie per essere sempre qui la mattina insieme a noi quindi siamo ben contenti di avervi svegliato con questi pezzoni assolutamente già che siamo in tema di musica chiudiamo con il breve passaggio diciamo sull'armanaco perché oggi è nata Miley Cyrus 30 anni fa auguri Franco Nero auguri 82 anni non me lo sarei mai aspettato però effettivamente se ce l'ha nel film effettivamente cioè fai i conti di quello che ha fatto ti vengo a guardarlo non ci penso ma perché io ho un'immagine di Franco Nero nella testa in cui ha i baffi e la barba nera 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 Franco Neri di nome e di fatto e quindi ho detto boss non avrà 82 anni invece e poi ricorre il 43esimo anniversario dal terremoto in Irpinia sicuramente 43 anni sicuramente se ne parlerà nel corso della giornata poi la mia età c'è il terremoto in Irpinia è vero allora discorso su lunedì sullo sciopero di lunedì ce lo togliamo subito alcune testate giornalistiche iniziano a scrivere sciopero confermato eccetera adesso io sono sul sito ma molto probabilmente lo sapranno eccetera comunque io vi dico quello che c'è scritto sul sito di usb unione sindacale di base che è colei che andrà a proclamare sciopero si dice come avevamo già detto ieri che venerdì 24 novembre ossia domani ci saranno le conferenze stampe in cui saranno illustrate le mobilitazioni e gli scioperi una a Roma al centro congressi Cavour e una a Milano nel piazzale l'antistante il deposito ATM di Viale Sarca alle ore 11 questa era un'informazione che ieri non c'era c'era scritto TBA sostanzialmente da definire e quindi domani alle 11 davanti al deposito ATM di Viale Sarca saranno illustrate le modalità di sciopero di lunedì 27 novembre non dobbiamo aspettarci chissà quali novità l'ATM già infatti dà una comunicazione con un potrebbe con un condizionale dice che potrebbero subire avere conseguenze sulle linee ATM tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18 prima e finire il servizio come al solito non disperate fino a domani alle 11 perché sicuramente verrà annunciato mi spiace non abbiate grandi aspettative esatto però magari non è solo queste ore è tutto il giorno ufficialmente domani venerdì 24 novembre dalle ore 9.30 alle 15.30 alberi e suoli di città progettare al tempo della crisi climatica perché è il classico forum è il classico conferenza come si può chiamare tavolo di discussione io non entro in questo cilio praio in cui ti stai significando tavolo di discussione tavolo di discussione dal nome alberi e suoli di città progettare al tempo della crisi climatica domani al museo di storia naturale di Corso Venezia dalle 9.30 alle 15.30 il programma è molto folto non hai risposto alla mia domanda perché ridi no rido perché alberi e suoli di città progettare al tempo però posso dire non c'è una parola inglese non c'è una parola inglese stranamente non c'è green and tree on the field our city parteciperanno tra i tanti ed è una grande assessora alberi del comune di milano che alle 9.30 darà il benvenuto e molte altre persone che sono anche di posso dire comunque una cosa sugli assessori come fare l'assessore praticamente è impossibile lavorare perché tutto il giorno ti chiamo a presiedere a star lì a presiedere scusate in cose cioè vai a quello il forum vai all'altro forum quando è che ogni notte lavorano poveri cristi non so poi dopo so che devono fare delle cose quindi forse chiamiamoli un po' meno questi assessori lo dico anche noi giornalisti non so come dire anche se c'è un vizio italico adesso non lo so se è solo milanese ma credo italico sicuramente milanese che è quello che parla sempre solo l'assessore di riferimento tu c'hai questa roba di portavoce io ce l'ho questa roba qua di portavoce l'assessore ha da lavorare lasciatelo lavorare prendete un portavoce e noi giornalisti parliamo con un portavoce so che è molto americana come cosa so che è molto casa bianca il portavoce di Trump che entra nella saletta e manda col paese tutti la questione è un conto il portavoce di Trump dammi a Milano il numero di un milione un milione e quattrocentomila abitanti un milione e quattrocentomila secondo te di un milione e quattrocentomila quante persone hanno in mente la faccia o anche solo il nome di un assessore ma quello è un problema che non mi riguarda non so come dire è un problema mediatico appunto ma non politico ci aggiungi pure un alto grado di separazione ossia il portavoce sì perché tanto non sai che poi gli assessori non possono rispondere a delle robe perché stanno lavorando gli altri non possono rispondere perché sono più assessorati che devono parlare tra di loro allora facciamo della gente che è preposta a parlare con noi alla stampa che è preposta a raccontare nella città e basta io ho paura che allontani ancora di più non lo so ah perché tanto siamo molto vicini adesso no no purtroppo con il governo territoriale no però la mia speranza è che di qui a poco ci sia tu diventi sindaco no ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo una vicinanza cioè il disinteresse per la politica nazionale non venga legato aspetta che ci chiedono le elezioni casualmente ci sarà un riavvicinamento della politica a noi funziona sempre così noemi con glicine 7.37 minuti 7.37 minuti cristal radio noemi con glicine sempre bello questo pezzo mi prende mi prende sempre Sanremo è vero Sanremo anche questo sì abbiamo un filo diretto con Sanremo un filo rouge sì tra l'altro non sarà neanche classificata malissimo no 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 che ha partecipato un sacco di volte a Sanremo se noi andiamo a vedere le canzoni oltre le vicine io non ho in mente una canzone di Noemi che è stata presentata al festival ne so quelli scritti da Vasco quella scritta da Vasco eccetera eccetera ma ogni anno io ho in mente lei che entra al festival sì è vero e le altre canzoni dove sono finite fate il gioco con i vostri amici dovresti permettarlo fai il gioco poi non vi lamentate se non ne avete più San Masieri San Masieri un gioco da tavolo dove devi riconoscere le canzoni io essendo grande fan dei giochi da tavolo non ho ancora appoggiato uno esiste su Amazon adesso se te lo dico magari conoscendoti potresti anche comprarlo fra due minuti è sostanzialmente una scatola con dei cartoncini un tabellone eccetera tutto bianco e tu ti crei il tuo gioco di società da di Crestidra eccetera bellissimo come è che non ce l'hai ancora tu? perché non ho dati artistiche vabbè ma non hai mai pensato a un tuo gioco da tavolo? no 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 che ragazzo ho pensato a implementare delle cose ai giochi da tavolo ah ebbè no tu lo rifai uguale più quello che vuoi tu senza R di fianco nel cerchietto eh vabbè senza non so comunque allora andiamo avanti tiriamo innanzi scusa? tiriamo innanzi case a Milano il calo delle compravendite sta abbassando i prezzi delle abitazioni nuove titolo del Corriere della Sera Milano nei primi sei mesi del 2023 si legge dell'occhiello battuta dal resto delle compravendite da 12.500 rogetti a 15.600 quindi però vabbè nel primo semestre del 2022 il ribasso tocca le tipologie di maggior pregio quindi ristrutturato è stato ristrutturato a nuovo e il nuovo e si legge che sta avendo ciò sta avendo degli effetti anche sui prezzi che sembrano tra virgolette ammorbidirsi non più 12.000 euro per metro quadro ma 11.800 euro al metro quadro così nel senso non c'è capito me ne vanno giù di poco però in questo punto noi pora gente non ce ne accorgiamo sono solo case di pregio si ristrutturato a nuovo c'è casa tua che ne ha betto la no esattamente non è vero non è vero dai beh perché casa è molto vecchia ma è più bella il cuore della bovisa mi piace non è stato a casa tua il cuore della bovisa vive vive e lascia vivere un quartiere che vive che tra l'altro di fianco abbiamo Bergamo io adesso la dico Bergano non Bergamo scusami Bergano che adesso la voglio dire grossa potrebbe diventare il nuovo Nolo allora sai che ieri pensavo alla stessa cosa come è possibile perché ieri sono andato da quella parte lì e mentre parlavo con il mio compagno di taxi ieri ho fatto un taxi una roba che non facevo da una vita diciamo chi è il tuo compagno di taxi Cocchi Ponzoni ieri ho fatto un viaggio in taxi con Cocchi Ponzoni molto molto bello e stavamo parlando della zona e lui appunto è della zona diciamo intorno a Dergano e anch'io ho pensato ma vuoi vedere che a cavolo di Dergano posso diventare la nuova Nolo si con tutti i pregi e i difetti chiaramente magari solo con i pregi speriamo potrebbe essere comunque fatto sta che Dergano sta veramente vedendo una un exploit adesso sembra una cavolata c'è la piazza che ha acquisito una funzione sociale che prima non aveva fa la differenza tanto tanto beh allora tutti a Dergano non tutti andiamo a fare weekend già adesso con la goccia sicuramente ma soprattutto la The Best di oggi per noi e come sempre è Tamara Malleo buongiorno Tamara ciao buongiorno buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano e buongiorno a Fabio e a Lorenzo come state come è andata questa settimana grazie mille Tami tutto bene tu come stai? bene molto bene molto bene e chiaramente siamo qui per parlare di teatro ma oggi ho una chicca ah non vedo l'ora non vedo l'ora di qualcosa che di una persona che conosci ma non voglio svelare troppo allora iniziamo subito iniziamo subito con un teatro Teatro del Borgo che è un teatro che è aperto l'anno scorso in una zona diciamo dove non c'è non c'era un presidio teatrale e cioè in zona Paolo Sarpi si chiama Teatro del Borgo e in via Berga 5 angolo via Giusti 29 appunto in zona Paolo Sarpi ma dico una cosa importante ha un parcheggio interno non tutti i teatri ce l'hanno quindi si può raggiungere che in Paolo Sarpi è fondamentale esatto bravissimo Lorenzo perché so che è una zona piena di locali per mangiare e si può mangiare appunto e poi si può andare al teatro Teatro del Borgo apre la sua stagione il primo e il due dicembre con uno spettacolo molto divertente affidato a Barbara Bertato e Alfredo Colina che sono una coppia di comici che lavorano spesso insieme a Binario 7 che in questo caso lo portano in scena quasi come Romeo e Giulietta quindi una rivisitazione del grande classico attraverso una visione molto divertente molto diciamo così condita da tante risate da una visione molto ironica quindi ricordiamo comunque Teatro del Borgo io vi consiglio di andare a vedere il sito ha una programmazione molto ampia con tantissimi e tantissime artisti e artiste tra cui vi dico Alice Francesca Redini che firma un testo una regia con due bravissimi attrici che sono Elena Scalette e Francesca Gemma ma ci sono veramente c'è Ippolita Baldini insomma ci sono tantissimi nomi che potete ritrovare Teatro del Borgo in zona Paolo Sarpi quindi ve lo consiglio e la direzione artistica di Fabio Zullidi che è un attore fa parte della compagnia Oies e porta avanti dei progetti appunto teatrali secondo appuntamento invece ok sentiamo il secondo il primo andato che so che appunto diretto da Valentina Pescetto che so cui conosci ah fatto il 32 si 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 in quel di Barona intenderci che è in zona Navigli diciamo così metropolitana Romolo verde e poi si prende la 47 fino mi sembra che siano 4 o 5 fermate o comunque si può andare in macchina perché anche questo teatro ha un parcheggio quindi in questo caso si può raggiungere in macchina adesso che è la postilla del parcheggio perché ultimamente per me è importante anche la postilla del parcheggio si è importantissimo e quindi si può arrivare in macchina e sempre anche là 1, 2, 3 dicembre c'è uno spettacolo molto interessante questo mondo e quell'altro di una coppia di artisti che lavorano separatamente Francesco Brandi e Loris Fabiani che in questo caso lavorano insieme hanno già lavorato insieme ma in questo caso lavorano insieme con la regia di Francesco Brandi in scena ci sono entrambi col testo di Francesco Brandi prodotto da loro ed è un confronto diciamo c'è il protagonista Francesco Brandi e Giacomo che ha 40 anni si sveglia il giorno del suo compleanno e parla col suo pupazzo di infanzia in una specie di esame di coscienza quindi facendo un viaggio dentro di sé Francesco Brandi ha scritto tanti testi per strada è nato postumo in questo caso torna a un testo molto divertente per cercare appunto di restituire serenità insieme a Loris Fabiani che appunto sta lavorando molto sulla comicità con un percorso su Lunanzio che il suo personaggio che porta in scena nelle stand up e insieme cercano appunto di creare questa armonia e questa serenità da consegnare al pubblico per una visione di fiducia nell'oggi ma anche nel domani e quindi ci sono tante risate perché la scrittura di Francesco Brandi è una scrittura cinica ma molto divertente che graffia che va nella profondità dell'oscurità ma ci fa risalire attraverso una risata quindi Factor 32 Factor 32 questo mondo e quell'altro ok il terzo consiglio invece sia per Lorenzo che per te è un podcast è il podcast che si chiama Jugen ed è Claudio Garioni che è un giornalista sportivo di Tele Lombardia che in realtà ha una conoscenza una competenza in molti canti che ha deciso appunto di creare questo podcast che si chiama Jugen e Jugen è una parola giapponese che significa capacità misteriose che non possono essere descritte a parole e lui attraverso il coinvolgimento di ospiti vari parla di cinema di teatro di libri di fumetti di altri podcast e ci permette di guardare la realtà attraverso voci diverse e ci fa scoprire anche delle curiosità ci fa scoprire anche delle magari delle nostre passioni sopite che non conoscevamo quindi ve lo consiglio come ecco Jugen con la Y giusto? Jugen con la Y podcast che nell'ultimo anno è sostanzialmente il principale mezzo di informazione di trattere di informazione si si la prende si è tantissimo che il Gario come lo chiamiamo noi produce questo podcast è arrivato veramente da un numero di puntate molto interessanti con ospiti pazzeschi anche quindi veramente ascoltatelo Andrea De Logu insomma tanti nomi importanti ma in realtà c'è stata Tamara Malleo? no non c'è stata Tamara Malleo beh allora basta allora non ascoltate Jugen basta Gaglioni? ma a favore lui prende degli ospiti competenti importanti interessanti stai dicendo che noi prendiamo ospiti non competenti allora no allora voi prendete degli ospiti cercando di dargli fiducia ah ok ok hai una grandissima fiducia voi ci date spazio per crescere per imparare grazie perché voi fate questo vabbè tu non hai bisogno di imparare niente perché sei già benissimo tutto anzi sei tu che ci insegni ogni giorno e ogni settimana davvero delle grandi cose sul teatro anche oggi quindi due appuntamenti più a questa chicca molto interessante del podcast Jugen Tami grazie come sempre grazie a voi come sempre però la promessa che prima o poi mi raccontate voi uno spettacolo che andate a vedere a teatro ma io vorrei in realtà che ci andassimo tutti e tre insieme così almeno è meraviglioso allora volete scelga qualcosa per portarmi a teatro per me va bene per una volta fai il cavaliere e scegli tu qualcosa però nella vita Lorenzo scegli tu qualcosa stupisci Tamara allora stupire Tamara quando non a teatro che sia la cosa peggere che non la possa fare esatto lo dico a tutti i fan che ci scrivono non cioè prendetela per la gola fategli altri una torta un film magari ma sul teatro io mi affiderei esatto esatto io mi affiderei esattivamente va bene magari andiamo a Factory 32 eh adesso so dai chiama subito Valentina che la sentiamo e vediamo andiamo a fare un bel giro a Factory 32 Tamara grazie mille grazie a voi e grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori ci vediamo a teatro che è sempre un buon diciamo così un buon augurio e speriamo di in questi spazi ti rubo solo un minuto in questi spazi come questo vostro ma in generale appunto si cerca di di parlare di tantissimi temi ma sempre con grande serenità con grande coinvolgimento sperando che possa tutto questo essere utile per tutti noi per essere più consapevoli più critici verso noi stessi ma anche verso quello che ci circostiamo per guardare tutto con il giusto distacco ma anche la giusta partecipazione e poi dite che sbagliamo gli ospiti va bene dai a posto Tamara grazie mille grazie per il tuo messaggio grazie per il tuo messaggio e davvero grazie grazie e scusa grazie anche scusa non so mi viene da dirti così oggi va bene dai ciao grazie mille grazie mille ciao Tamara Malleo allora dai andiamo avanti perché abbiamo un ospite un ospite importante lascio a te la parola giovedì giovedì di cultura perché dopo i consigli sul teatro di Tamara Malleo adesso ci colleghiamo con Michela Pasi che ci racconta un po' di una rassegna di una mostra che da domani parte a Brescia giusto Michela buongiorno 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 Lorenzo ciao a tutti agli ascoltatori e agli ascoltatrici sono Michela Pasi vicepresidente del comitato di Senz'Atomica buongiorno Senz'Atomica il nome è già spiegabile esplicativo complimenti bravi come quelli che hanno fatto il giornale l'hanno chiamato il giornale perché era geniale come idea Senz'Atomica perfetto si chiarisce tutto cosa però portate avanti e cosa succederà appunto a Brescia che siamo qui a raccontare Senz'Atomica è una campagna che è nata per generare consapevolezza sul disame nucleare appunto come suggerisce il nome il nostro focus è proprio quello di trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari e da domani a Brescia sarà visitabile la nostra mostra immersiva fino al 14 gennaio che è proprio dedicata appunto a esplorare quali sono gli strumenti che noi persone comuni abbiamo a disposizione per contribuire al disame nucleare che sembra una causa così lontana ma che invece ci riguarda così da vicino e appunto da domani tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30 al salone ex cavallerizza in via Fratelli Cairo di 9 a Brescia sarà possibile visitare la mostra con chiusura tra l'altro estesa fino alle 20 venerdì e il sabato ma è un tema che sembra così lontano da noi comuni mortali in questi casi cosa si può fare ma soprattutto poi 2023 sono passati veramente tantissimi anni si è parlato tantissime volte di disarmi nucleare si è sembrato sempre di essere lì ok ci siamo adesso mai più e invece stiamo ancora a parlare lì e la minaccia è reale a volte esatto la minaccia è molto reale in questo momento stiamo arrivendo un'epoca storica spaventosa difficile che ci ha riportato molto vicini appunto alla minaccia delle bombe nucleari ecco la mostra parte proprio da innanzitutto dare voce ai sopravvissuti gli Bakusha quindi i sopravvissuti degli sganci atomici su Hiroshima e Nagasaki ma anche i test nucleari e quindi iniziamo subito proprio a mettere le persone al centro perché di fatto poi sono sempre le persone comuni e le città a risentire delle conseguenze della guerra e in particolare appunto di attacchi come quelli nucleari e in questo modo si va proprio a creare un movimento di consapevolezza delle conseguenze catastrofiche che queste amie possono avere concentrandoci sul paradosso in realtà della sicurezza basata sul possedere amie nucleari e quindi la mostra vuole proprio far riflettere le persone sull'importanza di cambiare il paradigma della sicurezza una sicurezza che deve essere incentrata sulla felicità e la sicurezza effettiva delle persone e non appunto sul detenere anni che sono in grado di devastare completamente la vita umana ma l'intero pianeta quindi ecco la cosa importante è proprio comprendere il contributo che ognuno di noi può dare e per questo la mostra mette al centro anche il trattato sulla predizione delle amie nucleari come dicevi tu si è arrivati spesso quasi a un passo dal raggiungere l'obiettivo è stato fatto un passo molto grande dal 2021 con l'entrata in vigore di questo trattato che per la prima volta sancisce l'illegalità di queste armi a livello internazionale e questo è veramente il risultato in realtà degli sforzi della società civile persone comuni che da tutto il mondo nel corso dei decenni si sono battute per raggiungere questo risultato e noi ci aspettiamo che anche l'Italia possa ratificare presto questo trattato importantissimo Michela leggo di una visita immersiva giusto quindi concretamente immagino visori e robe del genere giusto esatto è proprio così la visita sarà immersiva proprio perché avremo l'occasione non solo di vedere video sentire testimonianze ma proprio di fare un'esperienza di realtà virtuale tra l'altro accompagnati dalla voce di Carmen Consoli che sarà proprio la voce naviante che ci accompagnerà in questo viaggio da Tokyo poi Hiroshima e Nagasaki non voglio fare troppi spoiler però sarà sicuramente un'esperienza molto impattante perché grazie alla realtà virtuale e ai visori saremo proprio portati nelle città di Hiroshima e Nagasaki vedremo il prima e il dopo per lo scanto città di Hiroshima che lo sai non avendo potuto avere l'occasione di visitare quest'estate e ancora appunto a così tanti anni di stanza lo percepisci e lo vedi lo vedi anche semplicemente nelle costruzioni che in tutto il Giappone sono legate alla tradizione molto antiche Hiroshima è una città nuovissima ad esempio e lo vedi lo vedi lo vedi nella situazione in cui poi tu giri nella città poi quando vai a vedere il museo ti accorgi davvero dell'entità dell'unico palazzo rimasto in piedi dell'unico scheletro rimasto ancora lì a monito vorrebbe dire un monito che però ahimè pochi hanno ascoltato perché poi in realtà questo è il problema no Michela quanti paesi al mondo ufficialmente o non ufficialmente posseggono armi nucleari al momento allora al momento nel mondo ci sono circa 12 mila testate nucleari naturalmente sono dati che non sono sempre certi sicuri tra l'altro in Italia proprio noi ospitiamo delle armi nucleari gli stati nucleari sono circa 8 e noi come stato membro della Nato facciamo parte del cosiddetto nuclear sharing quindi appunto ospitiamo nelle basi Nato di Ghedi e Aviano tra le 30 e le 50 testate nucleari questo ci fa capire che anche noi come Italia sebbene non siamo uno stato nucleare perché non sono di nostra diretta proprietà queste testate in realtà abbiamo un ruolo fondamentale perché di fatto stiamo sostenendo in modo diretto e tante persone non lo sanno che proprio nel nostro suolo abbiamo appunto tali testate pensiamo che siamo chiaramente ugualmente coinvolti pur non essendo appunto i proprietari molto molto questo discorso sulla politica diciamo deterrente che hanno le armi nucleari si studia anche eccetera tu parlavi Michela l'ha chiamato paradosso l'ha chiamato interessante il paradosso della sicurezza di avere le armi nucleari che in realtà è un paradosso come non simono quasi infatti esatto scusatemi che ho perso no ok no Michela appunto dicevamo che portate anche questa tematica appunto del paradosso di sentirsi in realtà più al sicuro ma quando in realtà poi dicevi in Italia quante testate dicevi che abbiamo solo in Italia indicativamente tra le 30 e 50 testate nucleari non di nostra proprietà ma come dire comunque le teniamo lì insomma ricordaci bene allora cosa possiamo vedere come possiamo vivere questa esperienza appunto a Brescia e appunto anche poi le coordinate per venire e visitare sì allora la mostra sarà appunto visitabile tutti i giorni fino al 14 gennaio dalle 9.30 alle 17.30 con chiusura estesa alle 20 il venerdì e il sabato l'ingresso è libero gratuito possono partecipare anche le scuole perché questa mostra nasce proprio per parlare soprattutto i giovani e le future generazioni quindi ci sono proprio anche dei percorsi didattici dedicati la mostra è stata realizzata tra l'altro grazie ai fondi dell'otto per mille dell'istituto buddhistico italiano sopra garcai quindi grazie a questo sostegno appunto abbiamo realizzato questo percorso che come vi dicevo è immersivo è complesso e porterà poi alla fine della mostra a prendere proprio una una decisione ognuno di noi potrà esprimere una sua determinazione alla fine della mostra e poi siamo anche felici insomma di annunciare che è una mostra che sarà itinerante quindi ecco Brescia è solo l'inizio beh noi vi aspettiamo anche a Milano e vi aspettiamo a questo punto dovete venire a raccontarci questa storia perché è interessante perché appunto vogliamo anche noi comprendere al meglio ma comunque vabbè quanto ci muovono ore e mezza neanche siete a Brescia adesso fate un giro fate un bel giretto a Brescia già che siete lì andate a vedere senza atomica e poi è uno di quei casi in cui l'esperienza immersiva secondo me coincide perfettamente con lo scopo perché adesso ci sono tantissimi musei è l'unica mostra che vi dico avete fatto bene a fare l'immersivo agli altri anche basta sinceramente andate a vedere Van Gogh dentro a un quadro di Van Gogh non me ne frega niente scusatemi se l'ho detta scusate ma invece in questo caso in questo caso è perfetto coincide coincide uscite molto probabilmente uscite con un pugno nello stomaco diciamolo Michela sì sì e no perché usciamo a avere un grande senso di speranza veramente senza atomica da questo ci fa sentire in realtà protagonisti di un cambiamento virtuoso quindi va a generare empowerment e quando io l'ho vista per la prima volta dieci anni fa che ero molto giovane mi sono veramente sentita incoraggiata non sconfitta non disorientata ma veramente consapevole che potevo fare qualcosa poi ecco naturalmente potete scoprirci anche su tutti i nostri canali social sul nostro sito potete iniziare a vedere insomma qualche anteprima su Senza Atomica Official su Instagram e Facebook e su www.senzatomica.it grazie mille Michela grazie anche a loro per questo messaggio di speranza a questo punto ce ne vogliono in questo momento anzi ne abbiamo un grande bisogno sì vi aspettiamo grazie mille Michela ci vediamo a Brescia grazie mille continuiamo grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille